Buonasera, benvenuti e benvenute alla prima edizione del Tg6 in apertura alla politica. Ieri il Consiglio regionale d'Abruzzo ha approvato all'unanimità il finanziamento da un milione e mezzo di euro al campus dello chef Nicoromito. La somma dal Fondo Sociale Europeo è stata assegnata senza bando pubblico al servizio. Un milione e mezzo di soldi pubblici a Nicoromito. Ieri il Consiglio regionale d'Abruzzo ha approvato il finanziamento per il campus ricerca e alta formazione che sarà realizzato a Castel di Sangro. Si tratta di una sorta di scuola privata di cucina di 3.700 metri quadri. Lo chef Tre Stelle Michelin ha messo tutti d'accordo perché l'emendamento è stato votato all'unanimità. In primis è stata trovata l'intesa nella maggioranza dopo un iniziale tentennamento della Lega. È un progetto rivoluzionario che rappresenterà l'emblema dell'Abruzzo del cambiamento, ha commentato il capogruppo di Fratelli d'Italia, Guerino Testa. D'accordo anche il centrosinistra e il consigliere Antonio Blasioli, che aveva votato contro in commissione, spiega che il PD ha approvato il progetto perché il campus offrirà cinque rette gratuite. Borse di studio gratuiti per cinque abruzzesi in condizioni particolari da un punto di vista economico e di merito per partecipare al campus di formazione di Nicorumito e altri dieci a condizioni agevolate, sempre di residenti in Abruzzo. collaborazione con le università abruzzesi e con il CRUA, l'abbiamo chiesto specificamente, come abbiamo chiesto pure che all'interno di questa legge fosse messa la possibilità di partecipare a questi corsi di formazione, al personale sanitario delle ASL e a quello delle menze scolastiche. È comunque un'iniziativa privata, però abbiamo consentito oggi all'approvazione a fronte di questa forte mitigazione di quel provvedimento di legge. Favorevoli anche i 5 Stelle? Perché è stato inserito anche un nostro emendamento, ha dichiarato la capogruppo Sara Marcozzi. Grazie a un emendamento a mia prima firma, ma poi firmato e quindi condiviso e votato da tutto il Consiglio regionale, un emendamento che stanze a 500 mila euro per il comune di Villa Santa Maria e in particolare per l'istituto alberghiero che ha oramai una tradizione centenaria, forse non è conosciuto universalmente come Nicoromito, ma ha fatto altrettanto un lavoro straordinario per la nostra regione, ha esportato cuochi in tutto il mondo e ha contribuito quindi anche esso negli anni, nei decenni a valorizzare l'Abruzzo nel mondo. Secondo quanto riportato dall'ANSA, il finanziamento al progetto di Romito sarebbe stato motivo del contendere in seno al gruppo pentastellato. Il vicepresidente del Consiglio, Domenico Pettinari, infatti, sarebbe stato contrario. La lite però è subito stata smentita dai grillini. Ad ogni modo rimangono ombre sulla legittimità giuridica dell'emendamento, in quanto si tratta di un finanziamento pubblico ricavato dal Fondo Sociale Europeo, concesso per un'iniziativa privata senza alcun bando di gara. Tutto dipenderà dall'interpretazione che gli organi competenti daranno della legge regionale 194 del 2021. L'articolo 3,4 di tale legge, infatti, giustifica gli aiuti di Stato a ricerca e formazione. Proseguiamo con la sanità. L'ASL di Teramo si prepara ad assumere infermieri, operatori sociosanitari e personale amministrativo. Oggi, inoltre, si è celebrata a Teramo, e non solo, la giornata mondiale del neonato prematuro in provincia ogni anno. Nascono almeno 30 bambini prima del tempo e la sinergia tra volontariato e ospedale diventa fondamentale per il supporto psicologico alle famiglie. Il servizio è di Tania Bonici Castelli. Giornate impegnative per l'ASL di Teramo, che ha promosso una serie di iniziative particolarmente importanti. Si parte con la celebrazione della giornata mondiale del neonato prematuro, che vede la sinergia tra volontariato, in particolare l'associazione L'Abraccio dei Prematuri, e le unità operative di pediatria, neonatologia e ostetricia dell'azienda sanitaria Teramana. Un modo per assicurare il supporto psicologico e logistico alle madri e, più in generale, alle famiglie di neonati prematuri. Il volontariato è qualcosa che entra in campo nel ritorno a casa. Nel ritorno a casa dove, purtroppo, io lo definisco un salto nel buio, perché al di là del bambino prematuro, il volontariato interviene anche a sostegno delle mamme in genere, delle fragilità psicologiche delle mamme, proprio nel momento post partum. E' un salto nel vuoto, perché dopo una degenza breve, una dimissione precoce, perché dobbiamo rispondere a criteri di efficienza, di razionalizzazione, eccetera, si torna a casa, spesso alla prima esperienza, con un allattamento non ancora avviato, con il baby blues che insorge proprio nel momento in cui si rientra a casa, e che in soggetti predisposti può dare grosse problematiche proprio di tipo sanitario importanti, la depressione post partum, la psicosi perperale, eccetera. Ma anche laddove non ci siano questi rischi, il sostegno alla mamma, alla mamma in modo particolare, non soltanto psicologico sicuramente, ma anche logistico è importante. Quindi il volontariato va a colmare questo vuoto che al momento c'è nell'assistenza territoriale, che ancora non focalizza l'attenzione sulle mamme. Si prosegue poi con il Welcome Day tutto terramano, promosso dal Dipartimento di Medicina Clinica dell'Università degli Studi dell'Aquila e dalla Direzione Strategica dell'Asla di Teramo, con lo scopo di promuovere l'accoglienza delle 40 nuove matricole del corso di laurea in infermieristica della sede di Teramo. Dopo tantissimi anni, grazie all'Università dell'Aquila, abbiamo riportato il corso di laurea in scienze infermieristiche anche a Teramo e la cosa bella è che l'anno scorso erano 20 matricole, quest'anno ne sono 40, quindi un riconoscimento importante per il lavoro che stiamo svolgendo. Intanto sono iniziate a Roma le selezioni per l'assunzione di 196 OS, operatori sociosanitari. Al maxiconcorso, che vede capofila l'Asla di Teramo per la Regione Abruzzo, hanno presentato domanda 8.000 candidati. 8.000 domande, 50% ieri e il 50% oggi. Pre luglio all'altro concorso che faremo il 24 di infermieri e all'altro dei collaboratori amministrativi che invece faremo a Pescara. E a proposito della giornata mondiale della prematurità nel reparto di terapia intensiva prenatale di Pescara, i nonni potranno incontrare i nipoti e la prima volta dopo l'emergenza Covid. Paolo Renzetti. Oggi come ogni anno, il 17 di novembre, è la festa del prematuro. È una festa che vuole sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni su questa realtà, che è una realtà importante. Considerate che un neonato su 10 nasce prima del tempo e che durante la pandemia sono anche aumentate le nascite premature. Cosa abbiamo pensato di fare quest'anno? Quest'anno abbiamo pensato di fare entrare i nonni in terapia intensiva insieme a mamma e papà, perché noi pensiamo che mamma e papà non sono semplici visitatori, ma sono parte della cura e quindi avere la famiglia vicino sicuramente ci aiuta in un'alleanza terapeutica che produce degli effetti assolutamente benefici e che sicuramente fa avere più successo. I nonni non hanno avuto mai la possibilità di poter vedere i loro nipotini e ci sembrava una cosa, veramente un regalo grandissimo da fare ai nonni, perché ripeto, per noi la famiglia è un altro elemento di cura, è importantissimo, cioè oltre alle nostre cure è importante che il genitore parli con il neonato, è importante che lo tocchi, che lo coccoli, che possa raccontare una storia, una canzone, perché tutto questo migliora il suo sviluppo neuropsichico. Lei prima diceva, dottoressa, che nel periodo Covid sono aumentate le nascite premature, c'è una motivazione scientifica, medica? Purtroppo la motivazione scientifica non si è ancora capita, gli studi sono ancora in corso, sicuramente tra qualche tempo capiremo anche perché sono aumentate in questo periodo le nascite premature. L'amministrazione comunale di Pescara ha illustrato questa mattina il progetto che riguarda il parco archeologico dell'ex campo Rampigna, due passi dal fiume, ora partirà la fase della ricerca dei fondi. Assessore, oggi svelate quello che è il progetto del parco archeologico ex campo Rampigna, un progetto a cui l'amministrazione comunale tiene in maniera particolare. Avere un parco archeologico all'interno della nostra città rappresenta proprio un prestigio di grandissimo valore, di grandissimo livello, anche perché lì all'interno si potrebbero portare avanti anche degli eventi culturali, dei poli museali, quindi è molto importante dare seguito a questo parco archeologico. Ora parte una seconda fase, quella della ricerca dei fondi per poter costruire questo parco. Sì, i fondi purtroppo sono tanti, i fondi che servono sono veramente tanti e quindi ci stiamo rapportando con il ministero per poterli trovare. Quando abbiamo scavato sotto a Rampigna abbiamo trovato resti che risalgono a prima di Cristo, quindi stiamo parlando di scoperte importantissime per la nostra città. La sovrintendenza è subito intervenuta, ha stilato un cronoprogramma, ha predisposto, redatto un progetto che adesso presentiamo alla città. Occorrono risorse, risorse molto importanti che certamente non possono essere sostenute dal comune di Pescara, però i fondi del PNRR possono essere assolutamente utili per raggiungere l'obiettivo. Certo è che io porrò delle domande alla sovrintendenza e soprattutto al ministero per capire se questo progetto e queste scoperte possono essere veramente interessanti a livello nazionale e internazionale in modo tale da poter investire su questa città da parte degli organi competenti. Se questo avverrà e avverrà in tempi brevi noi porteremo avanti questa possibilità perché sarà un salto di qualità della città incredibile insieme alle altre iniziative che stanno trasformando Pescara da città veloce e città del futuro anche a città che ha i piedi ben piantati in una storia lontana. Rampigna sì ha grandi opportunità e sicuramente non sarà un progetto breve, non sarà uno studio facile ma sicuramente potrebbe diventare uno degli elementi di punta della riqualificazione urbana e della conoscenza della storia della città. Da esperta vale la pena investirci, crederci anche se la prudenza della scienza per l'appunto ci consiglia di fare una politica del passo dopo l'altro della valutazione scientifica di quello che potrebbe emergere da una situazione che oggi conosciamo solo in via campionaria. Un progetto voluto da Università d'Annunzio e Prefettura di Chieti per un ciclo di incontri che inizieranno il 19 novembre e che vedranno i professori dell'Ateneo incontrare la cittadinanza per trattare tematiche che riguardano il periodo post-Covid. Scopriamo di cosa si tratta. Questa è un'iniziativa voluta dal nostro Ateneo e dal Prefetto di Chieti. Sicuramente noi abbiamo notato un problema molto serio a carico dei ragazzi, in primis di quelli vicini a noi, quindi degli studenti universitari e cioè che si sono rivolti agli psicologi proprio per delle disfunzioni che hanno ritrovato dopo il periodo Covid. Sono triplicate infatti le visite di una certa fascia di età presso gli psicologi e questo ci ha fatto pensare di dover fare qualche cosa. Quindi abbiamo messo insieme questi incontri, questa prima serie di incontri che spero saranno apprezzati dalla comunità. Gli incontri sono aperti a tutti, sono gratuiti. Naturalmente il numero di partecipanti esiguo, quindi c'è una prenotazione da fare perché possiamo accogliere circa 24-25 soggetti per volta. Comunque siamo pronti ad aiutare coloro i quali hanno subito qualche problema di carattere psicologico, fisico, da un punto di vista alimentare o del movimento o della socializzazione che è la cosa forse più importante e noi siamo pronti a dare una mano su questo. C'è una grande richiesta della cittadinanza per sapere, per conoscere, come fare per ripartire, per avviarsi al ritorno ad una normalità? Beh, si sta ritornando ad una normalità. Francamente la vaccinazione ci ha cambiato la vita perché l'anno scorso noi come università non potevamo nemmeno pensare di lavorare in presenza. Oggi abbiamo iniziato a fare le lezioni in presenza, quest'anno stiamo facendo lezioni, tesi, esami in presenza, solo in qualche raro caso andiamo in differita con la telematica, però alla fine si è ripresa una quasi normalità. Vorremmo aiutare quei ragazzi che non riescono a rinserirsi nel mondo sociale normale a poterlo fare con più tranquillità. Si chiama Lab 2, il progetto del Bando delle Periferie che riguarda il quartiere Fontanelle di Pescara. Oggi può anche contare sull'apertura di un punto informativo. Oggi si parla di Bando delle Periferie, di fondi che l'amministrazione comunale investe proprio per la riqualificazione di queste aree e si parte da Fontanelle. Siamo contenti oggi perché annunciamo anche uno dei tanti progetti del Bando Periferie. Oggi siamo qui a Fontanelle in via caduta del servizio. Riteniamo che questi progetti siano importantissimi. Siano importantissimi perché diano anche un aiuto, anche concreto alla cittadinanza, anche di inclusione sociale di tutta la popolazione che abita qui, che sono veramente tanti. Noi ci stiamo mettendo tante risorse come amministrazione. Potete vedere anche i lavori pubblici che abbiamo fatto qui. Abbiamo un sistema di videosorveglianza molto innovativo. È importante che l'amministrazione e il comune si sposti da Piazza Italia con questi progetti dove all'interno dei quartieri, soprattutto in questo caso qui a Fontanelle, andiamo proprio all'interno di quei contesti sociali dove la stessa cittadinanza ci dice di fare tanti progetti, tante iniziative, anche di dare accordo a tutta la popolazione che vive in questi luoghi. Noi vorremmo fare e faremo un censimento delle domande che, come diceva l'assessore, vengono dai cittadini. Cercheremo di organizzarle su piattaforme, anche col volontariato, su piattaforme operative. E in qualche modo cercheremo di risolvere anche i problemi più difficili di vita qui, perché ci sono le prime segnalazioni che noi abbiamo avuto quando siamo venuti qui per aprire gli uffici e molte signore di una certa età ci hanno detto ma per caso potete aprire una farmacia, per caso potete aprire un negozio. Questo dà la sensazione della necessità di attrezzare, ma non è solo questa l'attrezzatura di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di attrezzare anche dal punto di vista della capacità delle energie positive che ci sono in questo quartiere, di esprimersi attraverso anche momenti di occupazione, di tempo libero. Se c'è voglia di creare un'attività, anche una cooperativa, noi lavoreremo con loro a fare in modo che nasca questa struttura, questo strumento per esprimersi nel campo professionale. Lo faremo anche in raccordo con gli ordini, con le categorie. Quindi in qualche modo la città viene qui, non solo noi in città. E questo è importante perché cerchiamo di chiudere quella cesura che c'è stata o che c'è sia tra la città che il quartiere, che sia all'interno dello stesso quartiere. Il lavoro sarà questo, quindi quello di far esprimere le energie positive che c'è a questo quartiere. Prende il via oggi al Marina di Pescara la tre giorni di Visionaria, il primo Adriatic Innovation Forum dedicato all'innovazione in Abruzzo. Il servizio. Ha preso oggi il via al porto turistico Marina di Pescara la tre giorni di Visionaria, la Kermess dedicata all'innovazione che vedrà la presenza di oltre 50 speaker, 12 start-up finaliste e la presenza di studenti, partner tecnologici nazionali ed internazionali. Ospiti sono arrivati nella nostra regione dalla Croazia, dalla Spagna, dalla Bosnia, Erzegovina e dagli Stati Uniti. L'Adriatic Innovation Forum, organizzato dalla Camera di Commercio di Chieti Pescara con il supporto di agenzia di sviluppo, PID.impresa Digitale ed Innovalley, si chiuderà venerdì 19 novembre. Questa visionaria, così come l'abbiamo chiamato, è un momento di incontro tra ricercatori, gente che hanno voglia di fare politica, Camere di Commercio italiana, e con quelle del standard dell'Adriatico, con il mondo dell'università, con i giovani. Praticamente sono tre giorni di incontri per dare un contributo reale alla crescita del nostro Paese. Nella giornata di oggi, anche nei prossimi giorni, questi tre giorni di appuntamenti, Presidente, si vedranno anche le eccellenze dei nostri giovani che rappresentano il futuro. Certamente ci sarà anche il concorso delle start-up, ne sono un numero significativo, dove vedremo il grande lavoro che i nostri giovani hanno fatto. Appuntamento con la moda a Chieti con l'evento Autumn Fashion, che ha visto protagoniste la bellezza e le tendenze per la prossima stagione, per le vie del centro. Ascoltiamo Selene Secondi. Moda, musica e danza a Chieti, per una città che si conferma una fucina di miss e di future stiliste. Si è tenuto sotto i portici di Corso Maruccino a Chieti Autumn Fashion, l'evento moda organizzato dall'agenzia For Events di Camillo del Romano, che ha l'esclusiva regionale per il concorso di Miss Mondo. Sotto i riflettori hanno sfilato i capi d'abbigliamento di alcuni negozi teatini, ma anche le incantevoli creazioni disegnate e realizzate dalle alunne del Corso di Moda del Liceo Artistico Nicola da Guardia Grele, guidato dalla dirigente Paola Di Renzo. Coordinate dalle professoresse Anna Core, Marilena Pretrocco e Manuela De Cinque, le aspiranti stiliste danno dato vita ad abiti da sogno, che hanno colorato un pomeriggio all'insegna della moda e della bellezza. Un debutto infatti non solo per le aspiranti stiliste, ma anche per le aspiranti indossatrici. Per alcune studentesse dell'artistico è stata infatti la prima sfilata della vita, e potrebbe non essere l'ultima se si pensa che da Chieti la For Events Agency ha visto proclamate Miss già altre ragazze, come nel caso della conduttrice della sfilata Anna Bruna Di Orio, che ha partecipato alcuni anni fa a Miss Italia, e oggi è un volto noto di programmi Mediaset come Donna Avventura e Ricette all'Italiana. Tra un'uscita e l'altra di abiti ci sono stati anche momenti musicali, con le esibizioni di Giovani Promesse Canore e delle ballerine della scuola di danza Dimensione Danza di Chieti, diretta da Paolo Larovere. E tra le ballerine c'è già un'altra Miss, è Lorenza Mammarella, che alle selezioni nazionali ha vinto la fascia di Miss Mondo Cinema. E ora lo sport con il calcio di Serie C, continua la preparazione del Pescara in vista del match di domenica a Pontedera alle 17.30. Il tecnico Auteri deve fare i conti con la sostituzione dello squalificato Memushai. Il sostituto naturale sarebbe Diambò, che però non ha brillato nelle ultime partite, ed è stato anche richiamato ad un maggior impegno dal tecnico siciliano. Auteri potrebbe anche valutare il ritorno al 3-4-3, anche perché il Pescara si ritroverà davanti una squadra che opta normalmente per il 3-5-2, nel quale spiccano le figure del centroavanti Magnaghi, capo cannoniere del girone con dieci reti, e dell'esperto Caponi, metronomo del centrocampo. Diramate le designazioni arbitrali della quindicesima giornata, a Pontedera Pescara sarà arbitrata da Michele Del Rio di Reggio Emilia, Teramo Olbia toccherà invece a Marco Emanuele di Pisa. A proposito dei Biancorossi, il pareggio col Pescara ha dato grande fiducia al Teramo, anche se la squadra è tornata in zona play-out e ora deve tornare ad accelerare. Ne è convinto il difensore Pecentini, tra i migliori e l'Adriatico, il quale parla anche dell'avvento della nuova proprietà. Ascoltiamolo. Sicuramente si sono presentati come delle bravissime persone, che ci sono messe subito a disposizione della squadra, e subito il primo giorno quando ci sono presentati ci hanno detto che avrebbero fatto tutto il possibile per migliorare qualsiasi cosa ci fosse da migliorare, avrebbero fatto tutto il possibile per farlo. Non so se è la miglior partita che ho giocato, però secondo me abbiamo fatto in generale molto bene. Poi secondo me anche a livello personale ho fatto abbastanza bene, ovviamente sotto il punto di vista difensivo. Magari con la palla potrò fare una partita un po' migliore, però non so se è la miglior partita, parlando sia di fase difensiva che di fase in possesso palla. non lo so, però secondo me abbiamo fatto proprio anche in generale a livello difensivo una buona partita. Due buoni risultati per Mana e Cescala, però il termo è di nuovo in zona play-out, immagino che un po' comunque vi dia fastidio di trovare una buona partita. Certo, il pensiero c'è sempre, soprattutto quando siamo in zona play-out, bisogna sicuramente fare qualcosa in più. Adesso abbiamo per fortuna questa serie di partite in cui speriamo di fare dei punti che ci riescano a proiettare in un'altra zona di classifica. Fino a Natale ci saranno impegni in sequenza abbastanza complessi e sarà un momento importante del campionato? Secondo me è molto importante, anche per il fatto di come stiamo in classifica, la nostra posizione. Quindi secondo me è un importante, potrebbe essere un punto di svolta per noi come squadra. Come va a avere Agostino dietro rispetto al tozzo? Agostino è un ottimo portiere, anche lui è giovane, più giovane di Andrea, però secondo me si è dimostrato pronto, all'altezza. Quindi anche questo è un segnale che secondo me i ragazzi, anche giovani, se si allenano costantemente bene, appena trovano spazio possono fare bene. Serie D dopo gli stop in campionato a causa del Covid, torna in campo questo pomeriggio il notaresco che alle 18 giocherà al Riviera delle Palme in casa della San Benedettese per i 32esimi di Coppa Italia. In caso di parità al novantesimo si procederà direttamente ai calci di rigore. In palio c'è l'accesso al turno successivo della competizione. La vincente sfiderà mercoledì prossimo 24 novembre la Re Canatese. Direzione di gara affidata a Vito Guerra della sezione di Venosa. domenica prossima per il notaresco sarà di nuovo campionato con il derby del Savini contro il Castelnuovo Vomano. Il gol di Alonzi in pieno recupero ha permesso alla Vastese di centrare la prima vittoria casalinga di questo campionato. Un successo che può aiutare la squadra a crescere secondo il difensore Mattial Tobelli dispiaciuto per la mancanza di pubblico all'Aragona che andiamo ad ascoltare. A noi ci è dispiaciuto perché comunque era una bella partita ed è bella giocare con la nostra tifoseria che ci dà una mano perché in questo momento dato che abbiamo passato questo periodo stiamo passando questo periodo e cerchiamo di uscirne fuori serve anche una mano da parte loro che ci aiuta a spingere ci caccia energie che magari non abbiamo in quel momento. Queste difficoltà da dove derivano tu che le vivi dall'interno? Io personalmente penso che comunque queste dinamiche possono partire anche da un fattore che credo è psicologico perché nel momento in cui tu vai a affrontare squadre e comunque fai la prestazione magari episodi non ti girano a favore un po' secondo me ti demoralizza questo fattore. Poi una volta che entri in quel tunnel non è semplice uscire quindi secondo me oggi ci può portare a una svolta a questo campionato ed è quello che ci serviva perché comunque la vittoria ti dà sempre fiducia ti fa sentire più sicuri la vivi diversamente perché i numeri dicono che comunque i gol ne abbiamo fatti pochi e ne abbiamo presi pochi quindi però come hai detto tu Alonzi si è svegliato secondo me lui è un ragazzo che dà tanto in partita poi purtroppo ci sono anche gli avversari e la parte tattica noi la facciamo tutti i giorni e proviamo tante cose però poi magari in campo ci sono dinamiche poi anche se ritornando al fattore di prima che se non vengono i risultati perdi quella fiducia perdi tante cose ed è difficile poi magari farle riuscire bene quelle cose che proviamo durante gli allenamenti io dal primo giorno di ritiro che mi sono presentato quest'anno guardando i miei compagni ho detto bene quest'anno ci possiamo divertire comunque vedevo gente che ha delle grandissime qualità quindi il mio primo pensiero è stato quello poi scortunatamente gli episodi tante altre dinamiche hanno già portato dei risultati ma secondo me se ci mettiamo lì riusciamo a dare continuità a questi risultati positivi ci possiamo togliere tanti sassolini dalle scarpe non ci sono aggiornamenti termina qui questa edizione del TG6 il prossimo appuntamento con l'informazione come sempre questa sera alle ore 19 grazie e buon pomeriggio grazie e buon pomeriggio